Oggi andiamo al Casoni di Profecchia. Ci accampiamo alla partenza delle piste con la tenda e domani arrivano tutti gli altri. E domani si va tutti su a fare un bellissimo giro ad anello. Io ho un certo languorino, Pieroni. Che si fa? Mangia! Si trovo il posto giro del posto! Musica 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 Ma per cena abbiamo la bike! Musica Musica Il vino c'è. Il pane o semi anche. Il coco. Musica Musica Ragazzi buonanotte! Musica Musica Andiamo a dormire nel bosco, andiamo a dormire nel bosco e poi mi cago sotto. Musica 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 Colazio in cina da ricchi eh? Croissant per tutti! Libera bomba liberate voi! Musica 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 La troupe è arrivata! Musica 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 Sumica Musica Musica Direzione Monticella e poi scendiamo verso il rifugio Segheria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.